In un caso addirittura era arrivato a spacciarsi per un poliziotto nel tentativo di razziare un comprooro a Aretino, ma adesso è finita l'avventura del rapinatore seriale che dovrà scontare 8 anni e 10 mesi di reclusione e pagare una multa di 2.500 euro. Si tratta di un 38enne originario della provincia di Brindisi, autore di decine di rapine commesse nella provincia pugliese e nel territorio Aretino. Una lunga carriera fatta di colpi messi a segno anche con una notevole creatività. Tra questi il più clamoroso risale all'estate 2009 quando, con in mano una scacciacani e spacciandosi per un poliziotto, aveva tentato di rapinare il titolare di un comprooro di via Fiorentina. Il negoziante aveva reagito prontamente e dopo un'accesa colluttazione era riuscito a mettere in fuga sia il 38enne che i suoi complici. In quel caso l'uomo era stato rintracciato ed arrestato poco dopo dagli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo, ma negli ultimi dieci anni sono molti reati che gli vengono imputati. Ieri è stato scritto l'ultimo capitolo della vicenda giudiziaria del rapinatore, il quale al momento su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Genova si trova affidato ai servizi sociali Aretini in attesa della determinazione delle pene definitive per i reati commessi. Ieri la Corte d'Appello ha eseguito un cumulo di tutte le pene al quale l'uomo è stato condannato e per lui si sono così aperte le porte del carcere. Dovrà scontare 8 anni e 10 mesi di reclusione.